Ciao a tutti, allora questo video di oggi è inutile perché nulla di quello che vedrete corrisponde effettivamente alla realtà. Sto registrando con la mia videocamera 4K un proiettore a tiro ultracorto, che è sì 4K anche lui, Dolby Vision, tra l'altro io non sto registrando in HDR, c'è di mezzo anche la compressione di YouTube, c'è il fatto che questa è una parete normalissima, non uno schermo ALR, quindi comunque lui perde di qualità sulle normali pareti, insomma ci sono un sacco di ma. Vi dovete fidare di quello che vi dico, perché questo prodotto è assolutamente un best buy nel suo genere, ma per renderlo davvero tale dovrete investirci ancora più soldi, quindi in pratica diventa una bella nicchia per chi voglia però ricreare un effetto a casa veramente incredibile. Vi spiego come fare, quanto costa e fidatevi di me che se mi darete ascolto non rimarrete delusi dal risultato. Allora, 4Movie Theater è un proiettore laser Advanced Laser Phosphon Display, ALPD per gli amici 4.0, l'ultima versione, quella meno energivora, che proietta un'immagine fino a 150 pollici da appena 35 cm di distanza dal muro, quindi un proiettore a tiro ultracorto ed è l'unico al mondo tra i proiettori 4K a tiro ultracorto compatibile col Dolby Vision. Già questo primo fatto è abbastanza importante, già dalle immagini che state osservando adesso, quelle iniziali erano con la luce accesa nella stanza, si evince quanto luminoso sia, perché sono convinto che se vi soffermate sulle aree più chiare si vedano tutti i difetti che ci sono sul muro. Sto parlando qui, per esempio, in queste parti più chiare dell'immagine, dove tutti i pori che ci sono sulla parete sono ben visibili, e questo perché? Perché il proiettore è molto luminoso. Di contro, i proiettori meno luminosi, a casa ne ho uno per esempio da 2200 ANSI LUMEN, non esaltano così tanto i difetti del muro, perché essendo meno luminosi, beh, ti tirano fuori meno tutte quelle fuoristità e tutte quelle imperfezioni che poi vanno un po' a sporcare quest'immagine, ed è uno dei motivi per i quali effettivamente poi vi consiglio, con un proiettore del genere, assolutamente di dotarvi anche di un telo ALR, cioè i teli antiriflesso, perché comunque, intanto grazie a un telo del genere, lo potete davvero guardare tranquillamente anche durante le ore diurne, e poi perché vi dà un'immagine che è davvero uniforme, senza tutte le imperfezioni e anche le imprecisioni, come vedremo a breve, che ci possono essere su una comune parete. E' anche l'unico proiettore a tiro ultracorto con Android 11, patch tra l'altro di agosto 2022, quindi piuttosto recenti, nel frattempo la Wi-Fi ci ha abbandonato, ma ne approfitto per farvi vedere appunto un altro difetto, cioè il fatto che queste linee, come vedete qua nel menu delle impostazioni, non sono perfettamente dritte, ci fate caso forse anche con la griglia delle applicazioni sulla sinistra, perché? Perché nessuna parete, a meno che non sia perfettamente nuova e perfettamente ben costruita, è completamente piatta, lo è un telo dedicato, non una parete di casa, tra l'altro, e questa sì è una vera scomodità del proiettore, al contrario di proiettori non a tiro ultracorto, dove per esempio potete zoomare l'immagine e regolare automaticamente il trapezio, qui la lente è fissa, quindi qualunque tipo di correzione trapezoidale va fatta a mano con questa che bene o male è un'interfaccia abbastanza classica del genere, che vi permette di andare ad agire un pochino sui bordi per avvicinarli, allontanarli e correggere quell'effetto di deformazione, ma è difficile comunque ottenere una cosa perfetta su una parete che di suo non è piatta. E idem dicasi per la messa a fuoco, doveste essere voi manualmente a far sì che il fuoco corrisponda per bene in tutte le aree, sia quelle in basso che poi quelle in alto, che sono più lantane dal punto di origine della proiezione stessa. Abbiamo sì Android TV 11 quindi, ma non abbiamo Netflix, perché Netflix non concede, lo sappiamo molto facilmente, la sua certificazione, quindi questo box non è certificato Netflix, ci sono vari modi di ovviare, per esempio passando per Kodi o passando anche per eventuali APK, ma non saranno mai la stessa cosa dell'applicazione ufficiale ed anche per quanto riguarda Now, l'applicazione si può installare, ma poi in pratica non funziona. In compenso, essendo un Android TV c'è il supporto a Croncast e quindi potete castare dal vostro smartphone o dal vostro PC tutti i contenuti che volete. Eccezione fatta quindi per Netflix e YouTube, tutte le altre applicazioni di streaming presenti sul Play Store di Android TV sono qui disponibili e tranquillamente utilizzabili da YouTube, Prime Video, iPlay, Mediaset Infinity, Disney+, eccetera, eccetera. Tra le app presenti c'è anche VLC che mi permette di leggere anche la penina USB che ho collegato al 4Movie Theater e di farvi vedere il classico filmato che vi mostro sempre. Potreste notare dei colori un pochino più slavati forse rispetto al solito ed è così perché non c'è effettivamente il contrasto che si raggiunge altrove, ma il fatto che i colori siano un pochino più slavati non è male, nel senso che qua c'è il supporto ad uno spettro di colori veramente molto ampio, il 107% del BT-2020, una cosa che raggiungono solo i televisori di fascia molto alta, che costano anche di più di questo proiettore, sono 1,07 miliardi di colori con un contrasto di 3.000 a 1 e al di là di quello è uno spettro veramente molto più ampio che quindi per certi versi potrebbe rendere questa idea un pochino di slavatura dovuta anche al fatto che comunque stiamo proiettando su una parete e non su un telo dedicato, che va comunque ad esaltare di più sia i colori che il contrasto. Roud tra l'altro esce dagli speaker Bauer Wilkins, compatibile Dolby Atmos, c'è una porta eARC quindi se aveste un bel impianto Dolby Atmos sonoro in casa beh lo collegate qui e avete video e audio di prima categoria ma anche per questo vi dicevo prima che dovete aggiungere al prezzo del proiettore quello dell'impianto Dolby Atmos e poi anche del telo ALR al quale ho ormai accennato più volte e si va su cifre importanti, è inutile fare finta di niente. Vi faccio vedere rapidamente nelle impostazioni del proiettore a parte quello che dicevo prima dell'audio Bauer Wilkins che qua appunto potete andare a personalizzare porta eARC alla quale ho già accennato in precedenza varie ottimizzazioni del suono vedete Dolby Atmos, Virtual Surround eccetera il potenziatore dei dialoghi insomma mi premeva a farvi vedere il menu delle immagini perché intanto ci sono tanti preset che vedete poi dopo vanno a cambiare i valori sottostanti di nitidezza, tonalità, saturazione, contrasto, luminosità eccetera a seconda appunto di quello che vi interessa in quel momento ma poi ci sono ulteriori controlli sulla temperatura del colore per esempio che per i film è giustamente impostata a calda e ci sono anche le impostazioni video avanzate dove abbiamo per esempio i controlli sul MEMC che nella modalità film dovrebbe essere disattivato è il motion compensation quello che vi rende tutto diciamo più fluido ma che appunto non rientra nei canoni cinematografici abbiamo ALLM che è la modalità bassa latenza utile per i giochi modalità di gioco in questo caso è disabilitata ma mi verrebbe da dire che se andiamo qua e ci mettiamo in modalità gioco a parte vedere appunto come cambiano i valori qua sottostanti poi ritorniamo qua è la modalità gioco vedete che è abilitata non ALLM che possiamo poi però noi andare a decidere se utilizzare o meno è ancora più sotto sintonizzatore del colore anche qui con tutti i valori regolabili e correzione del bilanciamento del bianco a 11 punti nuovamente personalizzabile quindi un ottimo secondo me controllo superiore a quello classico che troviamo su tanti dispositivi Android TV per regolare la qualità dell'immagine in base a quello che volete proiettare e in base anche al vostro gusto personale quindi grande qualità di proiezione anche da distanza cortissima rispetto alla parete Dolby Vision Dolby Atmos qualità buona anche degli speaker inclusi che non vi obbligano per forza a ricorrere ad un sistema esterno e poi c'è una piccola chicca che è il controllo integrato tramite assistente Google perché ci sono dei microfoni sul 4movie che vi permettono di parlare con lui come bene o male con qualunque smart speaker Hey Google mostrami i film di Spider-Man al solito l'interazione con l'assistente di Google non è perfetta su Fire TV Cube che abbiamo recentemente recensito quella con Alexa è migliore per quanto riguarda sia i risultati che poi l'interazione con gli stessi in ogni caso è piacevole il fatto che per comunicare con il proiettore e per riprodurre anche dei contenuti non sia per forza di cose necessario ricorrere al telecomando nota finale ovviamente sul prezzo sono 3.399 euro al momento su Amazon 3.499 dollari sul sito ufficiale con spedizione anche in Italia possono sembrare tanti ma vi assicuro che per un proiettore a tiro ultracorto di questa qualità è un prezzo assolutamente concorrenziale anche perché ripeto che è l'unico al mondo compatibile con Dolby Vision a parte quello oltre a questi diciamo 3.500 euro in media dovete sommarci poi il prezzo di un buon impianto Dolby Atmos se volete potenziare l'audio e soprattutto prima di ogni altra cosa di un telo ALR che se si parla di buona qualità va dai 1.000 euro tranquillamente in su quindi la spesa diciamo minima si aggira intorno ai 4.500 euro ma può arrivare facilmente anche a cifre superiori se ci aggiungiamo un telo migliore e un impianto Dolby Atmos di un certo respiro siamo arrivati a 6.000 euro e vi sembrano tanti? sì è vero ma a quel punto avete un 150 pollici in casa con 6.000 euro non vi avvicinate nemmeno ad un televisore di alta qualità da 80 pollici quindi già questo vi fa capire comunque la differenza tra chi voglia un vero effetto cinema in grande scala e chi invece si possa accontentare comunque anche di un televisore di più piccole dimensioni sono due mondi per certi versi imparagonabili quindi anche tutti questi raffronti di prezzo che ho fatto lasciano un po' il tempo che trovano era per farvi capire che comunque se volete investire davvero in un effetto cinema di alta qualità in casa è un prodotto come questo e sono cifre come questa quelle che al momento purtroppo sono necessarie spero di avervi chiarito tutto ci sono un sacco di altri dettagli che era inutile vi mostrassi qua in video nella recensione completa pubblicata su smartwork.it se il video vi fosse piaciuto fate un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta iscrivetevi al canale